allora la vedo seduta intenta a suonare una specie di dire una via di mezzo tra una batteria uno xilofono fatta a semicirchio con le due bacchette e ogni parte che diciamo ogni tamburo però è tipo sono tipo elettronico la tipologia c'è effetto tipo xilofono ogni tamburo a un colore diverso e ieri che sono la batteria si dà l'autorizzazione cos'è vuole raccontarci con l'oxilofono allora non la vedo impaurita o triste mentre lo fa però quello che mi dice è che ogni appunto ogni tamburo crea delle vibrazioni adatte a una delle sue interferenze non so se ho reso l'idea chiamiamole allora l'interferenza e teri che ricordiamo che carol ha già fatto una sessione con me o posso che 22 giusto 22 sì però vabbè diciamo una per lei sì in epoca in cui le entità mentali non si sapeva cosa fossero i voladores di castaneda come qualcuno mi ha suggerito nei commenti allora ci sono tre entità mentali e c'è un solo una interferenza eterica anche questo leonide questo leonide come sempre vedo questo leonide molto attivo no quindi fa le cose in maniera diretta e molte prima rompente prorompente ed è come se gli creasse un vuoto in cui lei è attirata non vuoto nero in cui lei è attirata e rappresenta diciamo e lo fa con creandole le esperienze esterne quindi degli episodi esterni sempre più cupi cioè magari sono dello stesso tipo ma sempre più a lei lei li sente come sempre più profondi e difficoltosi ecco questo è il numero no questo qua è leonide leonide scusami se giusto vediamo le tre entità vediamo anche quale quali collabora con leonide livello 3 livello 4 livello 6 sì da 3 quella un po legata alla sua ipocondria direi no è proprio vedo come se accendesse dalla l'entità di livello 3 lo farebbe con qualsiasi sintomo ma ci prova a farlo con qualsiasi sintomo ma carol è abbastanza forte da quel punto di vista nel senso che quando l'entità mentale cerca di mettere in calo in carol un pensiero di ipocondria con un sintomo piccolo non riesce ad abbassare le vibrazioni a tal punto da poterle interferire ecco a necessità di utilizzare dei sintomi più grossi o dei sintomi che per carol sono più importanti 4 la 4 un po ecco la vedo come questa l'entità mentale fa sì che carol non riesca direi a difendersi nel senso che le crea in testa dei pensieri tipo tu sei superiore a questa cosa tu sei più forte tu puoi farcela no in maniera tale che tutto ciò che le viene scaricato addosso lei non reagisce no e quindi lo prende sulle sue spalle come se convincendosi che lei è superiore al come posso dire al cioè le potrebbe dire no adesso basta io non lo faccio più perché per me è troppo ok ma un pensiero come se facendo questa cosa va in contrasto un conflitto sopra come si arrende esatto si arrende può creare conflitto no tipo la vedo col marito magari che pensa che se dice di no poi crea conflitto e pesa ancora di più allora diciamo non dice nulla e si prende sempre il carico però questo carico le abbassa le vibrazioni questa è l'entità metà di livello 4 la tiene in questo stato ecco 6 la sei quella che collabora con leonide ed è la fa reagire alle situazioni esterne cioè crea dentro di lei rabbia e rancore e protesta ma non la butta fuori nel senso un po anche insieme alla 4 ok c'è questa parte che non reagisce bravi viene presso si impianti allora no un cerchio un disco per ti messo in verticale praticamente dove c'è la parte frontale del cervello che cosa fa questo disco all'interico e vedo che come se mandasse verso l'esterno un raggio rosso un'onda rossa è come se fosse la reazione a quello che arriva dall'esterno cioè come se l'entità mentali attivassero questo cerchi questo disco tutte le volte che carol deve agire rispetto a qualcosa che succede all'esterno e quindi poi si attiva il meccanismo appunto della rabbia della repressione l'ipocondria a seconda e poi c'è leonide che ha messo un ecco che cos'è ha messo un un impianto qua proprio dove c'è il presso solare più o meno alla fine dello stomaco credo proprio che da lì che crea questo vuoto nero ed è anche la causa del suo i suoi campi allo stomaco altro no vibrazione 18 miliardi per centuale di consapevolezza 187 psp 42 58 vite precedenti mille cento otto cervello 9.3 cinema due figli ad hd e autismo piccolo grande chiamiamoli più marito ci sono i due figli davanti marito in seconda fila come vedi piccolo allora lo vedo seduto stasse tutto ma come se li vedessi la tensione sul volto no presente queste dovesse partire tra l'altro non so come dire si ha un'espressione adesso come se è pronto no come una macchina da corsa che si prepara a partire accende i motori no quindi lì che aspetta solo l'ok per poter iniziare a fare così tipo una trottola il piccolo grande grande invece sta in piedi appoggiato la sedia ma sta in piedi vuole andare no no perché preferisce vedere da quella prospettiva dall'alto perché si sente più tranquillo più sicuro meno piccolo meno in disceso dice a quanto sta la consapevolezza della ps del piccolo 301 per cento del grande 280 quindi sono due ps cazzuto e questo sì e ho visto anche prima non è arrivato così hanno una percentuale di cervello molto alta rispettivamente piccolo grande piccolo 11,5 il grande 11,3 marito come lo mette in questa in seconda fila si sente quasi a disagio come si sente quasi a disagio come se non si sentisse cioè sentisse troppo piccolo non all'altezza di cogliere completamente le informazioni che vedrà come se si fosse messo sì in seconda fila perché davanti ci ci sono i figli ma al lato no non è in centro delle serie ma al lato perché si sente un po' insicuro un po' come se non fosse pronto all'altezza di ricevere queste informazioni molto curioso molto interessato a prenderle ma col timore di non coglierle abbiamo l'autorizzazione di carol e la fiamma no anima fine gemella allora anima fine ma di primo livello ok ok consapevolezza 80 per cento va bene causa esoterica di crampi allo stomaco ecco è l'impianto eterico che gli ha messo leonide causa esoterica dell'agitazione per la pande minchia direi un po l'entità mentale di livello 3 si è un pochi nel senso non è che ha molto a che fare con l'ipocondria ma vedo quell'emozione di paura preoccupazione no un po tolta in questa paura di questa situazione ecco si usa soterica del caldo di pomera vista è l'impianto mentale quello di il disco in verticale come se le mette c'è quando parte quel raggio rosso la sua vista modificata tra virgolette nel senso che l'occhio deve abituarsi a vedere con un filtro in più ecco ci sti ovaie lì invece è più una cosa emotiva nel senso la sua ps e su la suo cervello che vorrebbero reagire per sistemare inconsciamente questa situazione dei suoi figli e quindi alle fase attiva e poi soluzione si dice no secondo le cinque leggi quindi è proprio una reazione emotiva vedo a chi cercare di sistemare il nido di riparare a un errore diciamo il suo senso di colpa no i vacati figli si può essere quello si si pensa di avere di essere la causa della loro comunque la causa in generale non può essere o più o pericini vacco peraltro ecco siano destro a quel è come se si sentisse un po non capita non si sente capita dal marito si sente in questo periodo vedo non è da tanto come questa cosa qua del seno vedo che più o meno un sei mesi 8 che iniziato a sentirlo no come se si sentisse sempre più lontana dal marito come distanza non non riesco come se lei non riuscisse più a comunicare con lui vuoi una cosa così vedo mucco nei polmoni anche prima quando lo diceva non vedo proprio comunque come se è come se il suo corpo fisiologicamente volesse lavorare di più quando lei è sdraiata nel senso che come se prendesse l'immagine che ora come se stesse quella parte gli stessi in stand by quando lei è in piedi no che come se non fosse una situazione ideale e quando invece sdraiata è come se li vedo che si attivasse tutto un processo veloce per lavorare di più allora in eterico e proprio in eterico e non è tanto a livello fisico perché non è che c'entri molto però in eterico come se il suo organismo la sua ps volesse accumulare più aria in quel momento lì approfittando di quella situazione ecco una cosa così è più proprio un andare incontro è come se volesse fare un carico di energia ecco quando lei sdraiata per poi poterla dare a carol da consumare quando invece attiva ecco proprio una cosa così è solo fa la ps vedo che è proprio la ps che attiva questa cosa ipocondria entità mentale di livello 3 gatto zeus si chiama dire la verità vedo che è un gatto so se è un caso c'è è proprio capitato qua a vederlo perché la prima volta che lo vedo è un gatto che riesce a tenere fuori gli edl non so se carola mai notato che faccia così ma come se io vedo delle immagini a volte che è come se soffiasse ringhiasse al nulla e invece manda via gli edl va bene quindi ne siamo immersi in una realtà con gli edl cattivi che ci vogliono male no serve un gatto no dopo il canto di se stesso punti sono finiti quindi adesso resta la domanda cosa fare facciamo qualcosa di divertente ragioniamo tutti a scuola no sono maestro ragioniamo tutti insieme no facciamo una scuola parentale non tutti siamo allo stesso livello quindi c'è carol c'è il marito c'è un figlio l'altro figlio c'è il gatto poi ci sei tu poi ci sono io e siamo tutti lì che parliamo che vediamo mettiamo sul tavolo delle grandi verità dei foglietti con scritte delle grandi verità chi è il capo virgola siamo noi quindi degli edl ce ne sbattiamo i se chi è il capo siamo noi quindi della dhd dell'autismo ce ne sbattiamo le balle che ha lo stesso significato di batterse nei se chi ha deciso tutto siamo noi vediamo facciamolo ripetere al figlio piccolo il figlio grande al marito e vincina carol chi decide tutto chi è dio chi è il creatore figlio piccolo cosa risponde allora molto contento che è come se fosse la prima volta che vede concretamente dall'esterno che anche la sua ama il suo papà vedono anno anno preso consapevolezza che ognuno è creatore di sé ok questa cosa lo alleggerisce molto molto contento perché come se adesso si sentisse capito compreso che mentre lo dice lui vede che anche la mamma e papà lo dicono anche su fratello e quindi dice o finalmente anche loro l'hanno visto ecco tutte le vite che ha avuto il figlio piccolo chi l'ha creata la sua ps caso perché l'entità gli hanno detto devi reincarnarti no perché la sua ps reincarnandosi aumenta la sua consapevolezza e l'evoluzione per tornare diciamo che la sua ps diventa ancora più dio facendo esperienze ma facendo esperienze senza rendersene conto di essere dio si rallenta non si diverte si arena e si arena direi si arena proprio cioè su una linea è piatta cioè se si fanno esperienze senza arrivare a un dunque alla fine è come se si va su una linea piatta non si va mai in alto non si si muove la linea sempre uguale e invece con la consapevolezza proprio l'andare a vedere attivamente quello che si fa della matrix si aumenta la consapevolezza anche solo essendoci attivamente un pochino si aumenta poi più si è consapevole consci e più si va in verticale ecco si accelera al processo stessa domanda al figlio grande che così domande lui e lo sapeva ma appunto gli man al contrario del fratello più piccolo di suo fratello che lo sapeva e come se non come se si sentisse incompreso dall'esterno cioè voleva spiegare agli a cielo volato smettere agli altri ma fuori non capivano lui lo sa dentro ma siccome fuori non lo dicevano era un po insicuro cioè quasi come se quello che lui sentiva non fosse vero no quindi si chiudeva un po nella sua verità pensando a volte che non fosse la verità per quello che si sentiva debole voleva vedere da una prospettiva più alta adesso che vede che anche fuori lo dicono e lo sentono è molto più sicuro e molto più allegro attivo e si è alleggerito tantissimo lo vedo quando più aperto e solare secondo figlio più grande chi ha deciso tutte le sue vite qualunque sia il numero adesso 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 vede che è la sua ps fa un po fatica a comprendere meccanismo ecco ancora quel pezzolino cioè consapevole di tutto no ma con la mente come ecco in questo caso alle entità mentali molto forti che riescono un po a limitare la sua vibrazione e quindi è come se da dentro esce dice la mia ps c'è sono io che ho deciso di fare questi percorsi per l'evoluzione e l'entità mentali lo bloccano subito li abbassano la vibrazione e lo rendono un po più triste nel senso come si fa la domanda perché è una vita così e quindi c'è questo contrasto diamogli una ricca al grande è un altro piccolo è un altro al marito è una carol ok con la vic riesce a spostare un po le un po di più progressivamente l'entità mentali riesce a staccarle in eterico di più al piccolo in eterico viene facile staccarsi dall'entità mentali c'è da tutte le entità interferenti in eterico il marito ok ha preso un po più di sicurezza inizia a vedere un po chiaro un po più chiaro il meccanismo e quindi ha preso un po più di fiducia e dice forse ce la faccio anch'io carol e la sua famiglia sono in quattro hanno già vissuto vite precedenti insieme è arrivata questa immagine molto particolare allora li vedo erano se li erano due femmine due maschi e li vedo in un cerchio erano questa scuola erano piccoli però no un po di vite fa quindi erano ancora sei quelle scuole di paese tipo probabilmente in america dove c'erano quelle scuole piccole che erano di solito venivano fatte vicino alla chiesa no il paese che stavano giocando e stavano facendo stavano saltando in cerchio no tanto mentre giravano saltavano e hanno espresso ma proprio dal profondo tipo questo desiderio tra virgolette questo gioco dove hanno deciso di essere una famiglia è come se li avessero deciso che prima o poi sarebbero stati una famiglia ma in quella vita non lo erano no sì no no erano solo compagni di asilo direi ecco il gioco si troppo puro gioco profondo ha creato questa cosa del pallone facciamo nascondino facciamo il gioco del dottore diciamo io che faccio il benzinaio tu vieni qui fai benzina con la latina facciamo che sono panettiere ti dovendo il pane invece ti do i sassi no va bene siamo li sempre lì nel cinema entry carol nel cinema se me quattro sono in quattro gessetto magico bianco pavimento chiediamo a caro di disegnare disegnare la parola dio molto in grande sul pavimento una grossa di una grossa e una grossa o vediamo cosa fanno i 4 dove si mettono rispetto a queste tre lettere si mettono dentro dentro la scritta che chi vicino alla di alla iala o 22 che carole sto credendo allora i due ciline la di lei il suo marito nella o chiamiamo l'archetipo dio l'archetipo dio come è nato non è compatibile con quello che stiamo facendo adesso spiegami perché perché quella che tipo dio è qualcosa di esterno di alto di potente di non visibile di esterno ok e invece il lavoro che noi stiamo facendo ora è tutto all'interno di noi è potente però non è in alto non è esterno e magari invisibile diciamo la vista comune quello può essere però e nelle altre dimensioni in eterico tutti dove c'è la vedono la propria ps e come se ognuno è no che è dio quindi falso è il vero dio per i cattolici maometto il falso dio per gli islamici il dio della religione cattolica è il falso dio il vero falso dio invece è il primo creatore il secondo creatore secondo la nostra visione odino primo universo o zeus c'è sempre stata un po di confusione su sta roba poseidone o nettuno secondo l'universo certo due personaggi che hanno detto vabbè abbiamo avuto la comma la comanda dalle ps di fare sta cosa se noi abbiamo creato noi la matrix ma ciccibelli quello è un gioco virtuale esatto nel minuto proprio niente il vero dio è ognuno di noi esatto che bella come unico grande scoperta poi è unico è frammentato perché viene qui per fare un'esperienza che per forza per essere varia deve essere frammentata chiamali tutti i falsi di dei di parolaccio chiama lì più che metto in gesù testa rottura di pazzo di palle qua chiama proprio il concetto di falso dio quando in un qualunque tempo in una qualunque cultura si dice io prego dio oggi ho voluto quello che ti dicevo è quello è quella che tipo lino quella cosa esterna e tu ci pensi più alta io ha creato si chiede aiuto ma il tutto che noi vediamo qui nella matrix è la quindi è vero che dio è lo zeus di turno se si dice e si parla in questo modo e zeus di turno acquisisce la nostra energia sì ma l'essenza reale delle cose non è quel dio ho detto dio tra virgolette lettera minuscola chissà cosa altro il vero creatore di tutto è alto sì e allora chiamiamo il vero dio già qua come lo vedi no nel senso che se tu mi dici chiamiamo il vero dio allora visualizza la sorgente che però poi diventa noi tutto c'è non posso dividere mi viene fuori tutto che cosa vuole dire il vero dio si vede il tutto il niente serve il tutto e commenta tante fasi esatto no più o meno cosa vedi un calidoscopio di luci sì sì però è più c'è il calidoscopio vengono fuori forme spigolose no qua vedo un più un flusso che può essere che compatto e poi si divide e poi il compatto c'è ok quindi un flusso che si muove ecco poi il campo cambia il colore oppure riprendere il suo colore e poi ricambi e poi riprende facciamogli alcune domande che abbiamo visto e ti c'è alcuni alcuni alcune parti di me hanno visto altre no in che senso no diciamo con questa visione abbiamo ci abbiamo preso ah sì 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 non c'è ancora nessuno che ha visto e sa come funziona l'ultima parte dice cioè nessuna parte è ancora arrivata all'ultima parte del passaggio di me cioè ritornata no allora dice che è un passaggio di flusso no spiegami allora è un movimento di flusso dice io sono un movimento di flusso per farvi capire come c'è se voi se qualcuno di voi fosse avesse finito questo movimento qualcuno di voi dice che è sbagliato dire qualcuno di voi perché sono io vabbè ok alcune parti di me ecco se alcune parti di me avessero già visto la fine del flusso io non dovrei essere qua a spiegarvi a spiegarmi lusso è il discorso fiamma ritorno con fiamma si ritorno esatto l'ultimo pezzo si va quindi nessuno fiamma ma manca c'è ok fiamma si sono unite le fiamme devono fare stanno facendo il percorso ok ma ancora nessuno c'è manca l'ultimo pezzo che tipo lussi ecco che posso tradurlo così lui si sai lussi il film a lussi o calentare ecco tornare a essere l'uno dalla dualità e poi diventare uno e poi diventare non materia ci siamo siamo vicini però si sia o dio si dice lui manca un pezzettino e aspetta che si dice ci sono siete i pionieri le fiamme queste fiamme qua sono i pionieri ok dice si apre è difficile aprire la porta ok dai più da parte dei pionieri e ma ci sarà un momento dove poi l'informazione viaggerà molto velocemente ci sarà un grande flusso e poi ci sarà un momento ancora di stallo ma pian piano poi poi piano 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 arriveranno tutti a chiudere il gioco e questo si parla di però flusso adesso pionieri per un bel po di anni sì noi poi ci sarà grosso flusso per dice tra i 300 con 500 anni e poi dal rallentamento per gli altri anni c'è un grande flusso che se ne vanno si riescono ad andare da bene e proprio in questa questa massa illumina i quattro con particolare attenzione su carol potrei dire che carole quasi al giro di boa dove giro di boa e l'inizio della scesa salita la possiamo vedere così dove c'è l'unione con la fiamma e si inizia a salire per tornare in questa vita sì in questa vita no 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 in questa vita l'energia di boa nella prossima incontro alla fiamma se c'è una vaghissima possibilità che la incontri qua ma non la vedo adesso la struttura della vita di carol è questa e quindi insomma non è diciamo che tutto è possibile quindi se lei volesse potrebbe se diciamo che la situazione è quella quindi esatto e stabilizzata e quindi inquadrata questa già facendo un bel lavoro di consapevolezza su di lei quindi diciamo che siamo agenzie immobiliare agenzia per divorzi agenzie matrimoniale quindi non mi sembra il caso di fare agenzia dei divorzi oggi no 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 assolutamente non sta lavorando molto su di sé e su come portare la sua centratura all'esterno io vedo che questa sua esperienza è questa è molto centrata su questo vedono eterico non lo vedo molto concentrata lavorare da questo punto di vista quindi lei arriverà la prossima vita che ha fatto il giro di voi quindi partirà già dopo la boa ecco posso dire vedo così benissimo abbiamo fatto un grosso lavoro bello ci portiamo qua davanti a dio su quelli che vogliono venire tutte le fiamme che abbiamo conosciuto del primo secondo e terzo livello non le stupide fiamme che sono uscite dai tre livelli ne conosciamo no alcuna perché non hanno nessuna intenzione di capire che loro sono dio quindi si facciano pure le loro esperienze da soli stupide ex fiamme tutti a vedere chi è dio che poi un grande e gigantesco sfaccettato specchio come sta dimmi adesso chiamando le fiamme e non solo anche altri in questo momento questa è un'occasione direi fantastica perché è l'unica occasione andare qua così come abbiamo fatto oggi per poter girare e andare a vedere come funziona c'è quindi avere delle informazioni in più vediamole tutti quelli che ci conoscono tutti noi del nostro gruppetto di lavoro tutti quelli che hanno la fiamma che non hanno la fiamma quelli che non hanno la fiamma per esempio la vedono le vedono che possono essere diverse tutti qui a vedere la cosa più importante dio non china inchinandosi facendosi i segni della croce scospargendosi di incensi o di di pasticci la fronte intonando canti e nene belli ritti e fiere di fronte a noi stessi allo specchio di noi stessi noi l'abbiamo creata questa roba è nostra responsabilità tutto serve per fare un'esperienza per vivere un film un gioco quindi la parola di dio è la nostra parola oggi livello nostro specchio c'è fantastico perché da dentro si può vedere ognuno può vedere quale pezzo già fatto e cosa c'è davanti e quindi ha idea informazione di cosa c'è davanti di qual è la strada che gli manca ok quindi e dentro siamo dentro c'è sento dentro proprio sento l'energia sento qual è l'energia dopo qual era l'energia prima e quindi è molto chiaro ok i quelli che quelli che conosciamo che sono senza fiamma come li vedi alcuni è come se gli si accendessero lampadine quindi capiscono esattamente dove sono stati e cosa e dove devono andare quindi a livello proprio profondo sentono dove devono andare alcuni guardano quello che hanno già fatto e quello che devono fare è come se non volessero essere pronti per andare avanti non so come dire lì per forza sentono perché in questo momento se si guardi senti ma come se l'informazione la mettessero in stand by quindi quello che dicevo prima no se se comunque fai un po un passo vai un po in su ma in questi casi è come se hanno l'informazione ma continuano a fare tutto uguale no e quindi vanno dritti in una mano che sono gli scemi e quelli più bravi se lo fanno sento sentono e gli si apre proprio come se si accendesse una lampadina e sentono proprio dove devono andare e quindi si si crea si crea si crea si crea si con le mani nella mia voglia di una di una fiamma allunga la mano e la fiamma viene a prenderlo semplice tutto viene creato da noi ho visto una persona che ho visto sembra ieri dove c'erano delle fiamme grezze in questo momento vedo la fiamma creata ok oggi è un certo compleanno questa persona la trova allunga la mano perché l'attuale è fatti però è ancora attaccata se ce n'è un'altra grezza vero se sì sì ce n'è due va bene abbiamo fatto regalo di compleanno ok bene lasciamo i tre del cinema caro il protagonista adesso con questo che ha visto mi aspetto che faccia tutto da sola in fretta a livelli altissimi adesso finalmente ha capito profondamente le regole base ma il codice di base proprio le fondamenta di tutto del gioco della creazione io credo che dalle quelle tre lettere dipinte su quel pavimento del cinema si sprigione una frequenza incredibile anzi abbiamo trovato il nome del cinema cinema dio bello di apposto fu io cosa fa carlos ora dentro il cluster pulizia di primavera proprio ha aperto portale definitivo e sta proprio scopando sta proprio scopando dentro i contratti che si sono formati molta enfasi e non lascia neanche un granello di contratto ha chiuso il portale mutato anche la scopa ha chiuso il portale e fa un grande ad eterno una cosa particolare che dietro ci sono i suoi figli che copiano fanno uguale falle c'è la data non lo fanno benissimo marito guarda concentrato ma non è ancora non ha ancora trovato la chiave per attivarsi pronta per la sta andando all'altra come al solito ci sono spicchi delle entità mentali e uno spicchio più sopra entità mentali che non erano niente di che non erano poca roba erano un 3 3 4 6 per tutto l'anno 3 entità è una 6 insomma già iniziamo a scaldarci superata anche 5 superato proprio la prima metà 67 all'otto non siamo quasi mai arrivati no tranne quelle robe no era l'eccezione quindi un 7 un 6 sono brutta roba brutte vesti e 6 era legato a leone leone nelle razze è il più forte eh sì fatti infatti quello che agisce proprio direttamente c'è che se ok portare definitivo sta buttandosi entro la vata ok da chiuso quanto vibra la d'eterno non che sta per mettere 100 miliardi di miliardi perfetto c'è ancora qualcosa c'erano della dacson no c'è ancora leone no impianti lentità mentali no c'era un programma con un nome vuoto il programma delle onidi avrebbe se continuava c'è doveva andare avanti diventare sempre più a per poi far entrare altre interferenze e ricominciare con le abduction vuoto il vuoto nuova frequenza di carol 280 miliardi siamo la nella sessione di dio 280 alziamo la almeno 500 si sono presi per mano lei i suoi figli e hanno deciso di alzarle assieme per tutti tre collaborando diciamo no c'è ognuno per sé ma facendolo assieme nel senso è come se uno copiasse l'altro per alzare le proprie ecco quanto è arrivato a 350 420 e 480 560 570 ma che si ferma più se e siamo consapevolezza 327 solo la ps vite precedenti 639 cervello 9.9 messaggio finale di carola se stessa la senti la forte energia che adesso hai aperto la senti la forte consapevolezza che adesso hai visto non è ricevuto ma visto lavora tanto dice lavora tanto sulla tua centratura sulla tua potenza sulla tua capacità forza di aumentare le vibrazioni e di tenere fuori tutte le interferenze e vedrai che i tuoi figli ti copieranno copieranno questa capacità questo stile di vita e li vedrai proprio più sereni e tranquilli meno spaventati meno schiacciati dall'esterno continua ad alzare le vibrazioni dice tenere sempre alte questa cosa qua principalmente ok anche lei sa farsi da sia d'eterno ma si può creare l'uomo energia gli altri tre della famiglia possono fare la stessa cosa lo fanno se anche il marito ok e possiamo chiudere con un unico quadruplice abbraccio e quattro e dei rispettivi o quattro uomini energia donne uomini uguali tutti nel cinema dio sopra pavimento con scritto sopra dio qualcuno dirà i piedi sulla parola dio non si possono mettere ma andate perché dicono queste cose poi dicono che non devi dire parolacce ma e tu giustamente continui a dirla vibrazione finale di tutto 1.300 miliardi ok la loro quota prima di chiudere non mi sono dimenticato portale aureolo apriamo chiamiamo la madre la madre dice in questo è proprio guarda questa luce fortissima che arriva da loro quattro solo farò la dio e dice non posso far altro che rimanere estasiata da quella forza vuole dare un messaggio alla figlia continua così vedo tanta forza si fa forza viene da vuole aggiungere questa cosa più che altro caro la se stessa forza non significa la forza e la tua forza interiore che ti viene spontanea che ti viene semplice quando alzi le vibrazioni non è prendersi il carico di tutto voleva precisare questa cosa qua tutti i parenti di tutte le generazioni di carol nel portale aureo se vogliono venire ovviamente quelli che vogliono venire quanti sono 139 ottimo e la madre chiudiamo il portale aureo ultima immagine su carol c'è ancora l'oxilofono no ma al suo posto c'è qualcosa no adesso c'è un pavimento bianco foto carol può chiudere dicendo io sono dio e lo dice mentre fa delle pirouette proprio a 360 gradi in aria effetto abbiamo finito disconnettiti da tutto e tutti